Bene, buonasera a tutti. L'ottava si apre in territorio positivo per i listini europei, mentre solo il FUZMIB rimane al di sotto la parità. IDAX chiude a più 0,37%, IBEX a più 1,22%, CAC di Parigi a più 0,14%, il FUZI Londra a più 0,53%, ed un rendimento negativo, l'unica piazza finanziaria che appunto chiude al di sotto la parità rispetto alle altre è la piazza affare a meno 0,45%, che era reduce da spiro di sollievo arrivato dalle ultime sedute a seguito della risoluzione della crisi politica che ha evitato lo spettro delle nuove elezioni. Praticamente diciamo che sempre tra i bancari c'è un inizio di ottava molto difficile, in particolare UbiBanca che perde 3,16%, poi abbiamo con la banca IME che praticamente ha ridotto il giudizio sul titolo ad ADD dal precedente BAI. Bene, mentre si è mossa bene invece Poste Italiane che riesce a ragguantare uno 0,56%, mentre invece è giornata da incorniciare invece per il settore utility, tra i più penalizzati a maggio con appunto l'acquirsi della crisi dello spread. In particolare Italgas che ha segnato un balzo del 2,79%, mentre bene anche l'Enel con un rialzo superiore all'1,100%. Mentre per quanto riguarda la Fiat Chrysler ha seguito il movimento ribassista che è già iniziato nel fine settimana scorsa e precisamente venerdì, chiudendo a meno 3,63% a seguito appunto della presentazione di un nuovo piano al 2022. Mentre senza sprint resta anche Saipem che è caduto al 2,7%. Bene, mentre invece per quanto riguarda le news macroeconomiche oggi è stata una giornata molto tranquilla anche dal punto di vista delle movimentazioni per quanto riguarda i mercati delle valute. Le uniche indicazioni degli di nota, stamattina abbiamo assistito diciamo alla prima indicazione con l'arrivo dalla Gran Bretagna con l'indice PMI delle costruzioni che è rimasto stabile a 52,5 punti rispetto nella lettura di maggio. Mentre negli Stati Uniti gli ordini di fabbrica hanno mostrato ad aprile una flessione mensile dello 0,8% dal precedente 1,7%. Il mercato si attendeva un calo dello 0,5%. Beh, andiamo a vedere invece domani che cosa ci offre il calendario macroeconomico. Abbiamo stanotte la decisione sui tassi di interesse da parte della Banca Centrale Australiana, anzi all'alba alle ore 6.30, alle 10.30 invece abbiamo l'indice direttore degli acquisti e settore dei servizi di maggio della Gran Bretagna e poi alle 11.00 si passa alle vendie al dettaglio di aprile della zona euro e poi alle ore 16.00 l'indice ISM non manufatturiero di maggio. Bene, ok, di seguito trovate i miei riferimenti, quindi i miei contatti con Giancarlo Chioccio al tele3-dj.it, contatto Telegram, Facebook e poi il link per potersi iscrivere per chi vuole alla diretta live che si terranno alle ore 8.30 dal lunedì al venerdì e poi alle 15.00 fino alle 15.30 per l'apertura dei mercati americani dal lunedì al giovedì. Bene, passiamo ad analizzare quello che è successo per quanto riguarda i mercati. il primo target del mese di giugno è stato raggiunto proprio un'oretta fa, abbiamo su stellina dollaro neozelandese, stamattina abbiamo posizionato un pendente sell che è andato a target a 100 punti, poi al di sopra 1.89.55, eccolo qua, praticamente siamo entrati su questa zona e quindi abbiamo visto i target verso 1.89.55, anche se poi il movimento ribassista è continuato anche al di sotto il supporto a 1.89.55, l'operazione è partita esattamente a 1.90.60, stop loss 1.90.50, target 1.89.60. poi, oltre a stellina dollaro della Nuova Zelanda, in un'ottica di più breve periodo è partita anche l'operazione su Euro New Zealand, sempre un'operazione sell, in questo momento ci troviamo sempre in profitto di 35 punti, eccoci qua, sempre in ottica H4, quindi c'è stato il movimento al ribasso ed anche qua ho piazzato un'operazione a 1.66.65, un stop, stop loss 1.67.30 ed praticamente un target a 1.65.70.00. L'operazione in pratica in questo momento sta performando circa 35 punti ed abbiamo un stop loss di 65 punti a fronte di un target di 95 punti. Molto interessante ed analizzare anche l'operazione di più lunga gittata sul buy stop sul dollaro yen che abbiamo quasi raggiunto il trigger point, ovvero 108.95, con uno stop loss a 108.70, 115 punti e un target a 111.50, quindi 135 punti, quindi un risk reward pari a 1.1, un po' più alto di 1.1. Mentre invece per quanto riguarda le altre operazioni, in questo momento sto analizzando con attenzione altre situazioni interessanti, in particolare l'operazione legata ad AU2SD, quindi andiamo a vedere un po' anche per quanto riguarda AU2SD, ho messo domenica sera, ho piazzato un ordine se stop su AU2SD, ma praticamente al momento vedete stiamo correggendo a 0.76.441, quindi vediamo un attimo anche domani che cosa succede, quindi molto probabilmente andrò a spostare, vedete stiamo in zona 50-61.8, andrò a spostare lo stop loss un po' più, il 6 stop un po' più in alto. La stessa situazione per New Zealand dollaro, eccola qua, vedete New Zealand dollaro, anche qua ho messo un 6 stop su questa zona, però il prezzo è salito un po' più su, su H4 più tardi vado a verificare se è il caso di spostare, quindi di seguire l'operazione di spostare l'ordine pendente più in alto. Mentre invece per quanto riguarda altre situazioni sto seguendo anche altre indicazioni, in particolare abbiamo detto USDN, un'altra situazione interessante su USD Franco, USD Franco per un possibile operazione buy a mercato, il quale al momento però diciamo che ancora mi deve dare l'ok preciso per poter entrare a mercato, però sopra la linea gialla, vedete praticamente sopra questa zona 0.9920 si potrebbe tentare una prima operazione di stampo realzista con un primo target, insomma intorno ai massimi di periodo, però devo aspettare delle conferme stasera. Mentre invece per quanto riguarda la situazione legata agli indici, oggi abbiamo operato anche sul DAX, per quanto riguarda il DAX siamo andati in sell esattamente a 12.742, con un target a 12.700, poi subito spostato lo stop loss a break even che poi è stato raggiunto, però ovviamente l'operazione è subito andata in sell con un profitto massimo di circa 35 punti, poi alla fine non ci ha dato nessun'altra indicazione per poter di operazioni a mercato. Beh, aspettiamo quindi la giornata di domani per poter vedere un po' se ci stanno altre possibilità appunto di ingresso al mercato seguendo il profilo MQL indici, quello che abbiamo creato, di cui abbiamo anche il webinar, abbiamo effettuato e abbiamo fatto il webinar il 30 maggio dove praticamente già un bel po' di persone lo seguono e praticamente vanno, questo è solo EPE gli indici. Ovviamente oltre a DAX si può operare anche sugli altri indici fra il CAC 40, il FUZI Londra, Euro 50, Dow Jones, Standard & Poor's, Nasdaq, il Nikkei e l'indice australiano. Bene, per stasera è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, un attimo solo, qualsiasi informazione anche per quanto riguarda il profilo legato agli indici della piattaforma degli strumenti, della cassetta di attrezzi MQL, MQL su IT, potete contattarmi sui vari, sia per me, oppure nelle varie indicazioni che ho dato all'interno del primo in precedenza. Bene, grazie mille e alla prossima domani mattina con la prima, seconda diretta live della settimana alle ore 8.30. Buona serata a tutti. Grazie mille.